Autocarrozzeria 2N, un mondo di servizi per l'automobilista, gestione completa del sinistro, ritiro e consegna a domicilio, soccorso H24, sostituzione e riparazione parabrezza, rinnovo fari, riparazione rivestimenti interni, ricostruzione volanti, oscuramento vetri, verniciatura a forno, sistema tintometrico all'acqua, auto sostitutiva, autocarrozzeria 2N di Meleleo Marcello, via della ceramica 28A, zona industriale Putrofiano, telefono 328-6124932.